Chissà che cosa ci attenderà oggi o durante questo weekend, quale nuovo sindaco arrestato perché ha preso delle tangenti, quale nuovo pazzoide arriva con la pistola e ammazza chi si trova intorno, quale altra donna viene picchiata, quale altra tragedia ci arriva dal mondo dei tagliagole. Io direi a Papa Francesco che la persona più sublime, più bella che ci ha regalato la storia in questi ultimi anni e chiederei a Papa Francesco una speciale benedizione, una speciale benedizione su questo mondo in quale pare essere avvolto e travolto da delle presenze diaboliche poco controllabili. Grazie a tutti.